che è ufficiale, l'Oftus Cic al Milan, è una formalità ovviamente perché aspettavamo l'ufficialità acquistata dal Milan, dal Chelsea per 21 milioni e mezzo, adesso è arrivata anche l'ufficialità sul sito ufficiale appunto, scusate il gioco di parole del Milan, lo aspettavamo dopo le visite mediche ovviamente il contratto per l'ex Chelsea cresciuto lì, centrocampista che servirà come a Stefano Pioli fino al 2027.